eravamo rimasti dopo abbiamo pensato a lungo a quei poveri resti senza sepoltura rimasti decenni nella nostra cantina con chissà che storia alle spalle sicuramente un soldato dato per disperso e perché i suoi compagni l'avranno abbandonato lì in cantina si scendeva con una lunga scala da una porta vicino alla vecchia cucina dove mangiavamo solo a mezzogiorno la sera cenevamo al grande tabolo con i piedi leonini della sala con il pianoforte che aveva i muri dipinti di verde e di azzurro il salato più bello con gli affreschi sul soffitto ai mobili più antichi e lo usavamo poco in quella stanza c'era e c'è ancora un grande cammino con la nonna atala e non so se l'avesse scelta il nonno o se l'avessero già trovata in casa al pianotare non c'erano bagni motivo per cui l'anziana zia amelia e noi tutti facevamo pipì dietro alla siepe al primo piano lo zio fifo aveva un bagnetto vicino alle sue stanze e noi altri tra i genitori zii cugini e la nonna andavamo nello stesso enorme bagno pieno di arani pelose con il pavimento di cotto a rossa traballante e una vasca con i piedini che non ho mai visto usare da nessuno con l'acqua gelata d'inverno ci si lavava poco per anni a milano ho cercato una casa che assomigliasse anche solo un po' quella di castello un appartamento che me la ricordasse in qualcosa i soffitti alti o i pavimenti scricchiolanti e qualche crepa nei muri o almeno nei ragni l'ho trovata poco prima che morisse la mamma soffitti alti e crepe anche qualche ragno abbiamo fatto in tempo a passarci l'ultimo natale insieme il primo natale a milano a casa mia e non a ferrara da donatella come sempre negli ultimi vent'anni c'era una stanza per la mamma nella casa nuova la stanza dove sto scrivendo adesso ma in fondo lo sapevo che lei non avrebbe mai lasciato ferrara dove aveva passato 61 anni dalla sua vita anche se io oltre a mia sorella non avevo più nessuno nemmeno il gatto alonso a quest'anno ormai la mamma andava solo un paio di volte all'anno per salutare il babbo al cimitero la casa che non era più quella di una volta con tutti i suoi problemi difficili da gestire da là i complicati ulteriormente le metteva a tristenza non ci entrava quasi mai e se ci entrava si metteva inutilmente a pulire e faceva una gran sgobbata poi tornava a ferrara recriminando sulla casa lasciata andare sulla sua stanchezza ma la casa come ha voluto il babbo è ancora lì sarebbe bello che qualcuno dei miei figli ci tornasse con i suoi figli ma chissà non mi chiederò troppo solo di passare l'infanzia insieme anche se io non ci fosse più dare a bignardi non mi lascerò orfani no Grazie.